Non scazziamo niente per la scelta, non so che si sa 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 la scelta, non faccio il video, tranquillo. Ragazzi stiamo prindando all'anno nuovo che arriva, all'approvazione della legge di bilancio, a un anno migliore per tutti gli italiani, Alla legge di bilancio che prevede, il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, la pensione minima, Il rimborso dei danni subiti dai banchieri, un miliardo e mezzo per i bussati dalle banche, tanto altro ancora. È la prima legge di bilancio, la prima manovra che vede al centro i cittadini e non gli interessi le lobby. Vai! Gli italiani lo capiranno fra il 3 e il marzo? Volete bere? Ragazzi stiamo solo all'inizio, dobbiamo fare tante cose buone, sempre di più, sempre di più, auguri a tutti, auguri a tutti, auguri a tutti, auguri a tutti, è un inizio a anno plastic free, soprattutto.